Grazie a tutti. Grazie a tutti amici e appassionati del ciclismo che seguono Bike2U, benvenuto a Silvano Antonelli. Ciao Silvano. Ciao, grazie dell'invito e buona giornata o buona serata a tutti quanti voi che ci ascoltate. Grazie a tutti. 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 parte, a medio, fra i 90 e i 100 orari, completamente lunghi, solo col casco in testa. È drammatico vedere questo, noi che siamo dei motociclisti. Quindi possiamo pensare che questi arrivi in un qualche modo vadano riconsiderati. Aggiungo in maniera puramente riflessiva, perché su queste cose bisogna essere molto cauti e essere anche molto realisti. Tuttavia abbiamo visto anche recentemente c'è una neutralizzazione. Allora, se si vuole per forza fare un arrivo al tempo di una discesa di questo tipo, che non è il podio della Milano San Rivo, delle velocità sono molto più ricordi, si può pensare di fare una neutralizzazione al termine dell'ultima salita, in modo che la discesa la si fa unicamente per il posizionamento dell'ordine d'arrivo, ma non più della classifica finale, in modo da depotenziare l'intensità con la quale l'atleta si butta giù in discesa. Questi sono piccoli suggerimenti che vanno, come dire, valutati. Aggiungo sempre sulla tua domanda che vivo una sorta di angoscia rispetto al fatto che vedo l'evoluzione tecnologica che introduce i materiali sempre più performanti, ma parimenti, a differenza della Formula 1 o della MotoGP, dove anche queste sono a cale di velocità per eccellenza e anche noi quando andiamo giù in 100 km in bici siamo perfettamente in una gara di velocità. Non viene costantemente aggiornata la possibilità di ridurre in funzione dell'evoluzione tecnologica la governabilità del mezzo e quindi avere strumenti sotto di sé da guidare che siano più sicuri rispetto a un passato. Io drammaticamente, come nell'abbigliamento dei ciclisti, vedo che alla ricerca tecnologica non corrisponde a un menor grado di sicurezza. Questa è la domanda che chi produce materiali, chi costruisce i bici, ce la deve porre molto concretamente. Per quello che riguarda la performance delle biciclette capisco che purtroppo i costruttori sono molto più orientati al rendimento che alla governabilità del mezzo. però dobbiamo cercare tutti i sistemi per ridurre al minimo le possibilità di incidente. C'è però una componente ingovernabile che si chiama fortuna perché il giorno dopo abbiamo visto l'Italia Filippo Zana finire in un burrone alla stessa maniera, un burrone erboso con un pendio abbastanza scosceso ma non troppo, quindi questo ha tutito il suo incidente. lui ha ripreso la sua bicicletta, è tornato in corsa e addirittura si è classificato al secondo posto di tappa ed è andato per riuscire in giro di Slovenia. quindi credo che la fortuna abbia, o la sfortuna in questo caso, ha avuto un'opponente veramente decisiva per il povero Gennaro. Sì, è vera. La tua osservazione è assolutamente corretta. Tra l'altro a noi osservatori non è sfuggito che venti metri a destra della traiettoria seguita da Zana nel suo Campitombolo c'era una roccia che sporgeva dal terreno e questo fa capire ancora di più quanto la tua riflessione sulla fortuna abbia davvero significato. C'è da dire però su questo che, sul caso Zana, due sono le considerazioni che possiamo fare. Una è effettivamente l'errore umano perché ci erano già passati un'altra volta. Alla seconda invece si va fuori strada. Quindi c'è stato un errore di valutazione che umanamente chi careggia in un qualche modo porta a consenso. Però l'aspetto aggiuntivo è che quella curva, per come noi l'abbiamo vista, a differenza di quella che purtroppo ha fatto per la vita madre, era una curva che a noi tecnici pare sia una di quelle che ti fregono, come si dice un po' interno, cioè non riesci a capire bene come se ne può uscire. Per cui, a mio modesto avviso, da un punto di vista organizzativo, quella curva fa pensare che la si dovesse o si potesse, diciamo così, segnalare in modo più opportuno. Anzi, segnalarlo perché in realtà non è stato fatto. Lì abbiamo evitato un incidente grave esclusivamente per fortuna, però in tante occasioni ci dobbiamo affidare la fortuna perché purtroppo le gare si svolgono per strada e per assurdo i percorsi urbani, gli attraversamenti delle città con marciapiedi, rotonde cartelli, alla fine sono quasi più pericolosi, se non per la velocità un po' più limitata, che le discese alpine. Giriamo pagine, passiamo ad un altro argomento. Non posso non chiedere a te il tuo parere, anche se ho letto un bellissimo articolo, che ha scritto, che ci possono leggere sulla pagina ufficiale di Facebook di Progetti Scorta, riguardo al fattaccio dello stevio. Ricordiamo 30 corridori e 5 direttori sportivi fatti uscire di corsa perché hanno trainato dei corridori nelle retrovie nel tappone del Giro Andri. Il tuo parere, essendo tu il direttore di corsa altamente qualificato, qual è il tuo punto di vista? Allora, adesso precisiamo per gli amici che mi conoscono, perché non voglio mi lancare credito, io sono un direttore di corsa, non so se è bravo o non bravo, ma in ogni caso adesso ho tesserato fuori ruolo, perché avendo compiuto i 75 anni non posso più esercitare la funzione. Direttamente mi limito l'attività di consulenza agli organizzatori che me lo chiedono. Bene, questa vicenda in un qualche modo anche mi ha portato a riflettere, perché da Chito non mi piace. Quest'area di giustizialismo nei confronti di questi giovani, quest'area di bacchettonismo, chiamiamolo così, chiamarli bambocioni per meglio dire, perché in realtà sono i nostri giovani e si comportano come noi adulti, gli insegniamo a crescere. Quindi c'è una responsabilità comportamentale di chi ha commesso gli errori, questi errori noi dobbiamo farli cessare, ma non limitiamo sui tipicari ragazzi, bisogna anche noi che limitiamo i ragazzi di strada e noi su questo dobbiamo riflettere seriamente, perché ad essere pratici, quei comportamenti sbagliati da un punto di vista etico-sportivo sono stati sempre consentiti. Questo bisogna avere il coraggio di dirlo e non sono stati mai repressi adeguatamente. Bene, allora, se vogliamo cambiare registro, e io sono d'accordo, ci deve essere un momento in cui si fa il segno preciso che questo comportamento non sarà più tolerato, mentre invece qui si è ignorata letteralmente la situazione, non si è controllata la corsa e poi ci sono bigliottinati ragazzi. A me questo non piace. Poi ogni genitore al figlio prima gli dice che cosa deve fare per comportarsi bene, se deve applicare una sanzione, l'applica dopo che ha provato di insegnare. In questo caso non è stato fatto. E quindi, essendo la corsa venuta su, con un circuntenso dei corridori che non hanno visto attorno a sé nessuno, in particolare i giudici di cara, che hanno l'obbligo di intervenire da prima con la munizione per parla e poi successivamente prendere i provvedimenti, anche i più estremi, tipo l'espulsione. Questo non è stato fatto, perpetrando la situazione che, in un qualche modo, per l'ennesima volta per questi ragazzi direttori sportivi, nonché addirittura per gli stessi poliziotti e ministrati che sono finiti dentro, fosse possibile una vecchia storia di tiriamoli su. Tanto questi non portano via il pane a nessuno. Bisognava intervenire lì e fargli capire che il comportamento dei giudici sarebbe stato diverso, non è stato fatto. E alla fine della manifestazione, tutti, a tirare la cordicena della giudizia, a me questo non piace assolutamente. I ragazzi vanno rispettati, vanno educati e vanno puniti solo dopo che li abbiamo educati correttamente e li abbiamo avvertiti sulle conseguenze. Questo non è stato fatto. Quindi, in futuro, io sono, perché questo comportamento venga completamente eliminato. Dobbiamo anche, sul piano nostro comportamentale, di responsabilità dei dirigenti e sul piano formativo, creare le premesse perché tutti consapevolmente non adottino più questi comportamenti. Cosa bisognerebbe fare oggi per sensibilizzare organizzatori e team perché si evitino faccende di questo genere? Qual è la cosa più pratica, più veloce per chiudere questa brutta pagina perché tanto comunque rimarrà una ferita nel nostro sport? Non ci abbiamo fatto tutti una bella figura. Secondo te il primo provvedimento da prendere qual è? Sul piano formativo, tutti i soggetti interessati alla gestione di questi momenti devono essere formati sui comportamenti corretti. Deve essere fracciata una linea netta fra quello che è successo fino ad oggi e quello che si intende fare in modo che il domani lo si affronta con piena consapevolezza. Poi gli strumenti ci sono perché di fronte a situazioni particolari e vedono difficoltà di percorso come poteva essere questo, gli strumenti sono quelli di allungare il tempo massimo fino a comprendere le situazioni di fatto che vogliamo tutelare. C'è anche la possibilità, una volta superato il tempo massimo e che è stato fatto più volte, considerare comunque il contesto complessivo, la difficoltà, il caos... Scusami Silvano, scusami se ti interrompo, è abitata l'audio, si è sentito male per qualche secondo, siccome stavi esprimendo un concetto molto interessante ti pregherei di ripetere. Chiedo scusa ai nostri telespettatori e a te, ma era molto molto interessante. Stavo dicendo che soprattutto bisogna formare i soggetti interessati alla gestione di questi momenti. È fatta la formazione, si passa all'aspetto prettamente preventivo e informativo, cioè che questo non sarà più tollerato da oggi o domani. E in ogni caso ci sono degli strumenti per togliere sempre le specificità, perché i regolamenti hanno una loro elasticità se vogliamo usare l'intelligenza applicativa. Per cui si può giocare in situazioni particolari per non disperdere il patrimonio di questi ragazzi, che sono i nostri ragazzi, non sono gli altri. Molti sono anche deboli perché vanno a scuola, perché hanno poca esperienza e noi li dobbiamo aiutare a crescere. Allora nel crescere c'è anche la possibilità di flessibilizzare il regolamento, ovvero quindi tempi massimi più ampi quando è necessario. E anche come spesso vi stavo dicendo, viene applicato il tempo massimo se qualcuno o troppi lo superano, ma non c'è stato d'oro. Cioè nel senso di essere in tanti fuori tempo massimo perché così ci rimetteranno per forza dentro, come è successo altre volte. Ma considerando effettivamente che i ragazzi, puramente un atteggiamento etico corretto, non ce l'hanno fatta, allora si può accettare il rientro anche se hanno superato il tempo massimo. Dobbiamo essere persone che sanno ragionare come applicare i regolamenti, ma applicarli in maniera secca e quasi in maniera stupida. La responsabilità degli uomini, come le elezioni, sono funzionali oppure no a certi obiettivi. Molto chiaro anche in questo argomento. Vengo all'ultima parte della nostra intervista ed è la parte che mi fa piacere perché ho rilevato, guardando ciò che è successo in corso, anche importanti all'estero, quanto migliore sia la nostra preparazione dal punto di vista della sicurezza. Chiacchierando ieri, mentre prendavamo appuntamento per la nostra intervista, è venuto fuori il discorso del Dio di Bretagna, una corsa importantissima che si svolge al nord della Francia, quindi non in Ruano. Abbiamo assistito a scene di preparazione totale. Da noi c'è un ispettore di percorso che è altamente preparato, di solito, che precede la corsa di 15-20 minuti, anche mezz'ora. Motociclisti che precedono la corsa di alcuni minuti e motociclisti che sono nell'immediato disinanzio del gruppo. Tutti preparati e sanno preparati per l'energia. Lo ricordiamo, a tutta Bretagna, anche se la fotografia non è molto bella, facciamo vedere lo stesso, un po' che è accaduto in una brevissima discesa, dopo un temporale di qualche moto prima che era portato dal falco sulla strada, il primo corridore che ha portato il risultato è stato questo, con 50-60 corridori a terra, la tappa annullata e brutta figura per organizzatori e per tutti quanti. Io credo che in Italia una tappa di specie del genere sarebbe molto difficile da vedere per la preparazione dei nostri nomi addetti alla sicurezza. Che ne è vero? Sono d'accordo con te Gianluca, che difficilmente possiamo immaginare che una situazione del genere posso potesse accadere anche in Italia, perché il grado di preparazione dei nostri motociclisti privati è impareggiabile rispetto a quello degli altri paesi. Noi veramente, qui la federazione, a partire dal 1998, quando ha introdotto i corsi per moto straffette, ha fatto veramente scuola, ha fatto. E noi generalmente abbiamo dei motociclisti molto responsabili, molto professionali, tanto che la federazione pretende che appunto abbiano la tessera di motociclisti alla scorta tecnica quando inseriti nelle loro competizioni. Io sono sicuro che in una circostanza simile, come si sarebbe dovuto fare, qualcuno della scorta avrebbe disposto il fermo di almeno un motociclista a segnalare il tratto pericoloso. Perché se quel tratto piuttosto lungo consentiva comunque alle moto di sfruttare la parte più asciutta o addirittura le auto di passare quasi indenne, andava compreso che il gruppo che tiene tutta la careggiata in quel punto bastava un niente, un piccolo scarto di direzione, un piccolo tocco sul freno per creare il patatrack come è avvenuto, fortunatamente senza particolari conseguenze. Ora, chi mi conosce sa che io non sono bacchettone, non mi vede scrivere sui social, fare critiche agli organizzatori, perché quando gli errori ci sono io cerco umilmente di sfruttare l'occasione per capire come si poteva fare meglio e domandare me stesso ma io avrei fatto meglio e ogni volta dobbiamo avere l'interrogativo se davvero noi saremmo stati migliori degli altri. Ma non vedo che in quella circostanza, mi permetto di dire, sia stato un errore tecnico di valutazione di comportamento. Qualcuno doveva segnalarlo, poteva essere avvisato dall'ispettore di percorso, potevano essere le stesse moto staffette professionalizzate. Le nostre lo sono, altre no. Aggiungo in particolare Gianluca, che all'estero non esiste la figura del direttore di corsa. Per cui in corsa, di fatto, tutto è affidato al presidente di giuria, che ovviamente non ha esperienza di queste case in molte situazioni e non ha comunque il corso del potere decisionale che da noi ha un direttore di corsa in quanto responsabile della sicurezza, lui può chiedere che la corsa viene fermata e eventualizzata. Ne ha facoltà di sopra del presidente di giuria. All'estero questo non esiste. Quindi l'Italia è l'unico paese che ha la figura del direttore di corsa, che somma anche la responsabilità dell'addetto alla sicurezza. Altri paesi non ce l'hanno, però noi, mi pare, che non riusciamo a fare breccia verso gli altri, ma sono gli altri che travasano su di noi i comportamenti più generalizzati e anche meno attenti che a livello europeo esistono. Quindi due cose fa vedere questa situazione e il presuppone che forse l'Italia non sarebbe successo. La qualità delle nostre motos da fece scorte tecniche, di cui dobbiamo essere tutti orgogliosi, è il fatto che noi abbiamo sempre avuto, abbiamo più che abbiamo sempre avuto, il direttore di corsa, che ha la possibilità di governare situazioni, dall'estero invece non si riesce a governare con la stessa efficacia e competitività. È impossibile avere un protocollo internazionale che imponga anche agli altri paesi di avere queste, direi, minime cautele nei confronti di chi regola la corsa? Cioè, non sapevo che non c'era il direttore di corsa, io avevo il dubbio che non ci fosse l'ispettore di percorso, il direttore di corsa, lo davo per scontato praticamente. Allora, l'ispettore del percorso del regolamento UCEI è previsto. Per certi livelli di manifestazione, ovviamente non per tutte. Bene? L'UCEI prevede che i motociclisti in un qualche modo abbiano una sorta di abilitazione. Noi in Italia la facciamo con i criteri che conosciamo e sappiamo che sono dei criteri efficaci. Onestamente non so come vengono formati i motociclisti dall'altra parte. Ti faccio un esempio a proposta di formazione. Ma voi avete visto come si fa il servizio alla lavagna? L'UCEI prevede che chi fa il servizio alla lavagna, e non c'entra niente con la sicurezza, ma c'entra con la formazione professionale che nessuno di noi può avere. Cosa prevede? Prevede che chi ha la lavagna, la moto, sia costi ai primi concorrenti e si lasci superare dei primi 7-8 che stanno facendo la corsa, facendo vedere al loro fianco la lavagna. Voi osservateli bene, anche nelle manifestazioni più importanti, la lavagna fa vedere appunto la lavagna, per così dire, 10-15 metri avanti il primo concorrente. Senza che questi poveracci abbiano il tempo di leggere esattamente le cose, perché sono affogati nel loro sforzo fisico, non in altre cose. Per dire che all'estero si fa quello che si può, da noi si fa diversamente, ma sul fatto della direzione corsa, la figura non esiste, perché fanno tutti i giudici, tant'è che quando hanno traslato questa disposizione della direzione sportiva ai giudici anche in campo nostro, allora, in quel momento, eravamo alla fine degli anni a manca, ci sono stati più di qualche discussione, perché noi ritenevamo, noi direttori di corsa, che la direzione sportiva potessimo continuare a farla noi. Ci è stata tolta, però noi abbiamo dei bravi direttori di corsa che in ogni caso sono presenti e sanno quello che devono fare. All'estero c'è l'organizzatore prima della partenza e la giuria quando si è in corsa. Ci sono inventati per necessità, e giustamente lo chiamano il safety manager, e cioè la persona che dovrebbe capirci qualche cosa sulla sicurezza, che deve consultare e insegnare all'organizzatore, che però non ha ruolo, questo, chiamiamolo, ha detto la sicurezza, questo safety manager, non ha ruolo dentro la corsa. Quindi se c'è un problema critico, i nostri direttori di corsa fanno fermare la corsa. Là invece deve aspettare quello dei figli del Presidente di Giulia che non conosce il percorso, che ha rapporti per quello che potrà essere, o che a volte, a volte, può essere anche condizionato dal fatto che meno vado a creare problemi, più possibilità ho di continuare ad essere utilizzato anche nelle gare di grande livello che io si aspiro a fare. Quindi il safety manager diciamo che è un'entità che in Italia non c'è, ma insomma mi par di capire che non se ne senta moltissimo il bisogno. Allora, perdona, per certe fassie più alte di manifestazioni, non siamo a stare lì, word, word, parliamo di telepiote, così il pubblico normale si sente. quindi in realtà sono due linelli di competizione in cui c'è l'obbligo generale ormai di avere questa figura detta alla sicurezza. In Italia, quindi, per quelle manifestazioni si applica il concetto e va quindi individuato il safety manager, solo che noi, avendo i direttori di corsa che per definizione sono responsabili della sicurezza, si accetta la dichiarazione che il safety manager lo fa il direttore di corsa. e quindi si somma la competenza con la capacità di intervento, perché per la sicurezza bisogna avere capacità di previsione, di valutazione della circostanza e efficace di immediatezza. All'estero questo safety manager esiste, ma esiste sul piano della preparazione della corsa. Una volta che la corsa è partita, lui non ha più ruolo, non ha, se non consultivo, ma chi governa la corsa deve avere invece la capacità e il potere di agire in maniera determinata in qualsiasi circostanza. Le corse non sono treni impassibili, le corse sono dinamiche regolarmente gestite, serenamente spesso, per cui se abbiamo professionalità noi sappiamo anche quando è il caso di intervenire fino anche a chiedere una breve neutralizzazione della competizione. Molto interessante e molto chiaro anche questo concetto. Ci è rimasto un minuto, quindi ti prego di attenerti ai tempi per un'ultima domanda che non era triste, che però qualche amico ciclovatore ed organizzatore mi ha fatto. I nuovi protocolli prevedono un livello di sicurezza molto più elevato nelle Gran Fondo e ricordiamo che le Gran Fondo sono quegli avvenimenti che comunque generano mercato che poi intelligentemente potrebbero essere reinvestite sui più giovani. Quindi è importante che il Movimento delle Gran Fondo continui a svolgere il proprio lavoro. Come giudichi questi protocolli se li ritieni eccessivi, giusti o cosa sarebbe giusto corretto secondo te fare se puoi in un minuto. Allora, innanzitutto il disciplinare che è un obbligo di legge sui protocolli che si fanno fra la federazione e gli enti di promozione sportiva non trovo nulla di eccessivo. Eccessivo trovo il fatto dall'indagine fatta noi tempo addietro che almeno il 60% di coloro che partecipano del Gran Fondo non conoscono le regole della Gran Fondo stessa. Non sanno cos'è l'ordinanza di sospensione temporale del traffico. Molti dichiarano che superati dal fine di bar possono comunque gareggiare prendendosi nella responsabilità personale. Un assurdo un assurdo nemmeno per un bambino della prima elementare per cui il mio spirito il mio pensiero non è che questi protocolli disposizione quant'altro sono eccessivi no vanno capiti in maniera corretta prima dagli organizzatori e contemporaneamente anche dai ciclo amatori. Io ho fatto due iniziative sull'attività amatoriale sono venuti diciamo dirigenti sono venuti organizzatori le figure assenti chi erano gli ciclisti allora di che cosa stiamo parlando se quando è il momento di parlare di sicurezza di formazione di prevenzione i ciclisti non sentono il desiderio di conoscere il terreno e le regole di quel terreno sul quale loro vanno a spendere la loro vita la domenica da questo punto di vista quindi io sono anche un po' deluso non spero che attraverso quello che diciamo adesso nasca il desiderio di ciclisti di dire facciamone queste riunioni fateci conoscere le regole perché dobbiamo interfacciare il nostro comportamento con quanti sono gli obblighi degli organizzatori e le disposizioni di legge dareggiare è un atto di libertà santo e Dio ma dobbiamo farlo in consapevolezza di quelle che sono le norme le procedure le disposizioni che la legge il regolamento sportivo prevede dello sviluppimento di queste competizioni così si salva la vita e si riduce il rischio e si tutela la sicurezza di tutti i rodini speriamo che le nostre parole giungano a segno e che aiutino un po' i nostri amici pedalatori a farlo con maggior sicurezza e portare ancora più beneficio al movimento giovanile che è quello che a me e te so sta veramente più a cuore del ciclismo di vertice è stata una chiacchierata interessante gli argomenti erano abbastanza delicati vi ringrazio infinitamente saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato seguito e lo vorrei fare con questa immagine un'immagine molto triste che non avremmo mai voluto mandare in onda però purtroppo è accaduto e noi possiamo solo fare in maniera che tutti si ricordino di ciò che è accaduto perché non avvenga in futuro ciao grazie Silvano e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito grazie grazie di cuore per avermi invitato e anche per avere avuto la bontà di ascoltarmi spero di essermi reso utile un abbraccio a tutti quanti voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti